Bene accolti dalla parola di Dio. Questa terza domenica di avvento è una domenica speciale e tradizionalmente dedicata alla gioia nella maggior parte delle liturgie del mondo. È la domenica di Gaudete, cosiddetta, rallegratevi, così come recita l'antifona d'ingresso alla liturgia eucaristica che ascolteremo, presa dall'ultima parte della lettera che Paolo scrive alla comunità dei filippesi. Rallegratevi sempre nel Signore. Ve lo ripeto, rallegratevi. Il Signore è vicino. La caratteristica, potremmo dire, visibile che accompagna la Domenica della Gioia saranno anche i paramenti che il sacerdote indosserà. Saranno di un colore strano, perché non è un colore usuale nelle liturgie, il colore rosaceo. È una sintesi tra il viola, che accompagna il tempo di avvento, e il bianco, invece, che caratterizza la celebrazione del Santo Natale. Insieme formano questo colore rosaceo. Questo per dirci ancora che è come se la liturgia volesse fare vivere un momento di pausa, entro il quale cominciare a considerare la festa che sta per arrivare, la festa del Natale. Per cui la liturgia di questa Domenica può ben a modo essere considerata la liturgia della gioia. Tra l'altro abbiamo la possibilità anche di passare velocemente, così, in volo quasi, sulle letture di questa Domenica. La prima tratta dal libro del profeta Sofonia, la seconda tratta dalla lettera di San Paolo ai filippesi, e infine il Vangelo di Luca, che approfondiremo in modo particolare. La prima lettura, appunto, ci racconta di un Dio che è in festa, di un Dio che è in gioia, di un Dio che è danzante, proprio perché grida per la gioia incontenibile, perché l'uomo è stato liberato. Non soltanto è l'uomo a gioire, ma è Dio stesso che gioisce, è Dio stesso che si rallegra, proprio una delle caratteristiche che non abbiamo mai ascoltato nella scrittura, un parlare di Dio che è un gridare di gioia. E la stessa cosa viene ad essere riportata anche dal Salmo responsoriale e dalla seconda lettura, in cui San Paolo, scrivendo alla comunità di Filippi, tra l'altro dalla sua prigionia a Roma, invita a gioire, anzi, rallegratevi nel Signore. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi perché il Signore è vicino. E allora, prima di inoltrarci in quella che è la meditazione della parola di Dio, ci facciamo ascoltatori e pellegrini nella parola stessa. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo le folle interrogavano Giovanni, dicendo, Che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro, Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero, Maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro, Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati, E noi, che cosa dobbiamo fare? Rispose loro, Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa, E tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro, Se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti, dicendo, Io vi battezzo con acqua, Ma viene colui che è più forte di me, A cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali, Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia, E per raccogliere il prumento nel suo granaio, Ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. Gioirà per te, Ti rinnoverà con il suo amore, Esulterà per te con grida di gioia. Sono queste le parole con cui si conclude La prima delle letture che ascolteremo in questa domenica. Nelle parole del profeta, Dio danza di gioia per l'uomo. Il profeta Sofonia racconta di un Dio felice, Il cui grido di festa attraverso questo tempo di avvento, E non soltanto questo tempo, Ma tutto il tempo dell'uomo. È come se ripetesse a me, Ripetesse a te, ad ogni creatura, Tu mi fai felice. Addirittura potrei quasi dire Tu sei la festa di Dio. È bello ascoltare proprio questo tipo di linguaggio nuovo Da parte del profeta, Un linguaggio di gioia vera, Dio esulta, danza, canta, grida, Proprio perché è quasi a dire Che la sua gioia siamo ognuno di noi, Proprio perché siamo figli. Mai nella Bibbia avevamo sentito Dio gridare. Dio aveva parlato per mezzo dei profeti, Aveva sussurrato, Aveva a volte anche tuonato, Aveva la voce dei sogni. Solo qui, solo ora, Dio grida per amore. Non si tratta di un grido per minacciare, Ma solo per amare. Siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, Siate lieti. Sono le parole che Paolo scrive Alla comunità di Filippi. L'Apostolo, pensate che, Dettava queste parole a colui che scriveva Mentre si trovava in carcere E aveva davanti a sé già la prossima sua sorte, La morte. Eppure chiede a se stesso E chiede a coloro che lo ascolteranno Di essere lieti. Perché? Perché il Signore è vicino. Questo è il motivo della gioia di Paolo Ed è questo il nostro motivo Nell'attesa della sua venuta In questo tempo di avvento. Eccoci allora a ritrovarci davanti Alla domanda posta a Giovanni il Battista Da parte di queste tre categorie di persone. È vero, dobbiamo attendere con gioia L'avvento del Signore Ma nel frattempo domanda Che cosa dobbiamo fare? E la domanda, dicevo, Che per ben tre volte Viene posta a Giovanni Diverse categorie di persone E una diversa risposta Alla stessa domanda. Perché le folle prima E poi i pubblicani Potremmo chiederci E i soldati si sentono interpellati E a chiedere a Giovanni Che cosa è importante Un'indicazione per la loro vita Nel Vangelo di domenica scorsa Abbiamo visto da parte dell'Evangelista Luca Presentare Giovanni Come uno che annuncia nel deserto Preparate la strada al Signore Raddrizzate i suoi sentieri Ogni monte sarà abbassato E ogni valle Ogni burrone sarà riempito Oggi ci viene annunciato Qualcosa di più grande Qualcosa di più straordinario Che succede Nella storia dell'umanità Ma succede anche Nella vita di ciascuno di noi E proprio perché ci viene annunciata La sua presenza Il suo arrivo Occorre prepararsi Ecco allora la domanda Che cosa debbo fare? Che cosa dobbiamo fare? E la domanda che si pongono Tutti coloro che si mettono Alla ricerca di Gesù Cristo Tutti coloro che hanno nel cuore Questo grande anelito Questo grande desiderio Di incontrare il Signore Senza perdersi In quelli che sono I labirinti della storia E allora per fare spazio a Dio Devo andare a toccare Quello che sono nella vita Nella vita di tutti i giorni Che cosa devo fare ora In questo momento Nella mia professione Nelle mie scelte quotidiane In casa Nelle mie relazioni personali Con le persone concrete Reali In altre parole Dire che se vogliamo avere a che fare con Dio Devo avere necessariamente a che fare con l'uomo Non si può avere a che fare con Dio Mettendo da parte l'uomo Solo avendo a che fare con l'uomo Realmente si può avere a che fare con Dio E allora Che cosa dobbiamo fare? E' la domanda Che ci poniamo tutti Come credenti Quando pensiamo a come migliorare Il nostro rapporto con Dio E anche il nostro rapporto con la società E quindi la relazione con l'uomo e con Dio Ma penso che sia anche la domanda Che si pongono tanti uomini Che forse non sono neppure credenti Che cosa devo fare per migliorare la mia vita La qualità della mia società E quindi tutto ciò che normalmente mi si pone davanti E' una domanda quindi laica Ma nello stesso tempo anche molto religiosa Credo che davvero facendosi una breve Facendo una breve parentesi Posso dire che questo possa essere il terreno comune Da cui partire per un'intesa con il mondo che ci circonda Che cosa possiamo fare insieme A partire dalla mia vita E a partire ovviamente da ciò che mi è attorno Sono molto semplici e interessanti Se vogliamo le risposte a questa domanda Che abbiamo più volte sentito ripetere oggi Da parte di Giovanni Giovanni dà a coloro che gli pongono questa domanda Delle risposte molto concrete Non risposte teologiche Non risposte dottrinali Ma risposte concrete Alle folle che gli chiedono che cosa dobbiamo fare Giovanni immediatamente dà come risposta Quella della condivisione Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha E chi ha da mangiare faccia altrettanto La condivisione è il primo elemento fondamentale Agli esattori delle tasse Quelli che noi Quelli che il Vangelo chiama i pubblicani Dice di essere onesti Non chiedete più di quanto vi è dovuto Vorrei ricordare che non c'erano delle tasse fisse Erano approssimative Quindi magari il pubblicano poteva anche aumentarle Qui Giovanni gli chiede di non aumentare Di essere onesti E poi alla fine i soldati Anche loro chiedono che cosa devono fare E Giovanni a loro indica di rifiutare la violenza Quindi sono atteggiamenti concreti se vogliamo Ma mi sono anche chiesto Cosa risponderebbe a me Cosa risponderebbe ad ognuno di noi Se insieme gli avessimo posto la stessa domanda Noi che cosa dobbiamo fare? Semplicemente credo che a noi forse sarebbe stata data la risposta Guardare a Cristo Guardare soltanto a Lui Perché nel modo di essere di Gesù Nel modo di fare di Gesù Nel modo di relazionarsi di Gesù Noi possiamo davvero trovare la risposta Al che cosa dobbiamo fare E nello stesso tempo Il suo stile di vita Può davvero dare forza e novità Al nostro modo di vivere Guardando soltanto a Lui Concludo con il dire che Giovanni Non ha chiesto chissà che cosa Non ha chiesto nulla di particolare Ha chiesto soltanto quella capacità di vivere la vita in pienezza Nella giustizia e oggi potremmo dire Nella legalità e nelle relazioni vere che si chiamano condivisione Questo è il vero supporto per la nostra vita nella ricerca del Signore Allora, noi che cosa dobbiamo fare? Forse non dobbiamo fare nulla di più di quello che già facciamo Forse dobbiamo soltanto farlo meglio Saludato Gesù e Maria Saludato Gesù e Maria